Signora Valeria Vanossi, presidente dell'associazione Il Sole nel Cuore e madrina dello spettacolo di questa sera alla Tirinnanzi di Legnano. Ne chiediamo naturalmente qualche parola su questa bellissima messa in scena della Ida di Verdi. Beh, cosa posso dire? È stata un'esperienza emozionante, anche perché io non ho mai partecipato a un evento lirico e dunque essere partecipi prende comunque una passione, anche se non lo sei in realtà. Quello che mi è piaciuto di questo evento è che la scuola ha voluto inserire la musicoterapia e che comunque già dal Ministero della Pubblica Istruzione vuole, in poche parole, trasmettere alle scuole il teatro in classe. Io devo dire che secondo me è stato un successo, era stracolmo il teatro e dunque questo vuol dire che abbiamo veramente dato un impatto su questo centenario dell'acqua indescrivibile. Tant'è che abbiamo dovuto mandare indietro anche persone che purtroppo di posti a sedere non ce ne erano più. Quindi un successo assolutamente da ripetere, magari con un'altra opera. Non so se lei accarezza il sogno magari di vedere una rappresentazione di un altro genere se ha già un'idea in merito. Ma guardi, io ho semplicemente fatto da madrina presentatrice e narratrice. Mi è piaciuto narrarlo proprio perché ho capito bene che cosa vuol dire quest'opera dell'Aida di Verdi. Dunque sono entrata un po' nel personaggio. Credo anche che il professor Cellai e l'altra professoressa che è stata la mezzo soprano, che ha impersonato Amneris, credo che si possa fare anche qualcosa d'altro al di là del centenario che ha già tutto in programmazione, diciamo tantissimi eventi.